buongiorno ragazzi come va buongiorno sì la tv dell'intro era un po impazzita era un pochino impazzita come va ragazzi allora ciao marsmerlo pino matteo gintoc bell ciao ragazzi come state le sono mancato ovviamente sì matteo ovviamente sì era un po che non ti vedevo in live ma non ci incistiamo ciao neo tutto bene tutto bene allora visto che siamo freschi di critica di kingdom arts 2 ma soprattutto di data boss ho pensato che fosse giunto il momento di tierly starly di tierly starly ciao parche ciao parche tutto a posto tutto a posto allora come funziona piccole premesse piccole premesse la tier list non è basata sulla difficoltà di questi boss non parliamo della difficoltà ma è basata su quanto sono piaciuti a me e su quanto credo che siano ben fatti come boss e poi eventualmente anche su altri elementi che potranno entrare in gioco comunque insomma il punto è che è una tier list ovviamente soggettiva sul mio punto di vista e che non punta molto a valutare la difficoltà dei boss anche perché come abbiamo detto tante volte durante durante la run sono dei boss gimmick quindi anche difficile valutare realmente la difficoltà perché spesso la difficoltà è proprio nel capire e risolvere la gimmick e poi nell'eventualità di un secondo di una seconda run contro lo stesso boss la difficoltà cala drasticamente per questo motivo quindi non si parlerà di quello ma si parlerà proprio di quanto sono piaciute a me e quanto dal mio punto di vista siano fatte bene quindi marluxia TRS subito no TRS no ma su marluxia ho comunque delle cose da dire delle cose da dire allora io mi reco qui e possiamo cominciare allora ma sbaglio o manca qualcuno qui no ci sono tutti ci sono tutti allora no però voglio metterli nell'ordine in cui li abbiamo fatti qualcuno se lo ricorda loro due sono sicuramente gli ultimi loro sono all'inizio no nessuno si ricorderà mai l'ordine in ordine di organizzazione credo fossero già in ordine di organizzazione no non erano no e poi comunque no no vabbè lasciamoli così lasciamoli così vanno bene questo è sicuramente il primo che abbiamo fatto e questi sono sicuramente gli ultimi due che abbiamo fatto per il resto va bene così allora possiamo cominciare Zexion partiamo da Zexion il suo fight è il primo data che ho fatto ed è anche la prima silhouette assente che ho fatto e sicuramente quando lo si affronta come silhouette assente offre un livello di sfida più alto rispetto a quello che si era visto fino a quel momento nel gioco perché è il primo boss opzionale ed è un po' più complesso un po' più elaborato rispetto ai boss standard della storia come tantissimi boss soprattutto quelli opzionali super boss gira attorno ad una gimmick la sua gimmick non è tra le più fastidiose ma non è nemmeno tra le più divertenti di conseguenza quello che direi su di lui è che tutto sommato non è una brutta boss fight quindi non può essere mid non può essere sicuramente terribile però non mi sentirei di dire che è molto bella direi che Zexion ci sta è un buon super boss se lo trovassi come boss finale di un videogioco giusto per fare un esempio un boss del genere probabilmente sarebbe un po' deludente come boss finale però come super boss opzionale non molto difficile può anche essere divertente io direi che Zexion ci sta senza infamia e senza lode per quanto mi riguarda accendo il condizionatore rieccomi voi ovviamente ditemi anche voi cosa ne pensate perché sono pronto anche ad ascoltare i vostri i vostri punti di vista e magari rivalutare anche le mie posizioni perché no Zexion è m'ho vero questo ti do ragione ti do ragione quindi passa automaticamente in molto bella perché prende un tier per questa cosa prende un tier no non è vero non prende un tier torna in C sta Lexus anche lui diciamo non è proprio il primo a cui si pensa quando si si parla di data battles però tutto sommato per me non è male non è una brutta boss fight anche lui come tutti lo dovrò dire praticamente per tutti ruota attorno ad una gimmick la sua gimmick in realtà non è di quel tipo che va capita e poi viene completamente annullata la difficoltà ma è proprio una piccola meccanica di gioco che è quella dei punti forza in base a come tu reagisci a quello che lui fa salgono e scendono questi punti forza per te e per lui ora non l'ho studiata diciamo nel nel dettaglio tutto sommato mi ha richiesto solamente due try però l'avevo già affrontato come silhouette assente non è una brutta boss fight non è una brutta boss fight anche qui non siamo di fronte a niente di eclatante direi che anche Lexus è senza infamia e senza lode forse devo dire che mi piace più di Zexion quindi io lo metterei in cista perché comunque non è molto bella non esiste che va in molto bella però lo metterei prima prima di Zexion posso farlo? sì ok diciamo che inseriamo una stratificazione a questa tier list sono da sinistra verso destra in ordine di quanto li preferisco ok facciamo così facciamo così allora domanda seria calcoliamo anche il prestigio del personaggio nella sua boss fight in che senso prestigio Poon cosa intendi con prestigio? però ecco quello che potremmo fare che è interessante visto che ce li ho tutti segnati qua è dire anche quanti tre mi ha richiesto ognuno di questi boss anche se non parliamo di di difficoltà però può essere interessante e quindi torniamo al punto numero uno che era Zexion che mi ha richiesto nella mia semi-blind run un totale di sette tentativi no otto tentativi sette death quindi otto tentativi otto tentativi che comunque non sono pochissimi mentre per quanto riguarda l'Exeus i tentativi necessari sono stati tre avevo detto due invece sono due game over quindi tre tentativi io l'Exeus lo farei mid alla fine la sua gimmick non è neanche una gimmick eh ma sai io non essendo un amante delle gimmick preferisco quando la gimmick non è neanche una gimmick perché si può giocare di più con il combat system no no io non lo reputo mid però ci sta nel senso che Marluxia ha un occhio di riguardo in più rispetto ad un Vexen ah ok ok nel senso di quanto onorevole sia lo scontro e quanto si prestigioso sia il personaggio allora ho paura che questo possa falsare la 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 tier list anche se forse tutto sommato no diciamo diciamo di sì consideriamo anche quanto è figo il personaggio alla fine non è una tier list sulla difficoltà ma su quanto è figo il fight quindi più che considerare il prestigio considerare magari l'atmosfera quindi non necessariamente Marluxia deve stare sopra Vexen perché è più elegante magari può essere anche più figo il fatto che Vexen sia un pezzo di merda ok per dire non necessariamente non è detto che sarà così però potrebbe anche essere così proprio perché è un personaggio importante nel gioco rispetto ad un Vexen che ha una boss fight di mezzo sì sì no quello quello meno cioè nel senso il fatto che magari un boss non sia troppo rilevante all'interno della trama di questo gioco Vexen è molto poco rilevante all'interno del gioco ma in realtà anche Marluxia all'interno di questo gioco non è poi così tanto rilevante perché è già morto quando comincia il gioco però sì comunque voglio considerare anche un po' quanto è figa l'atmosfera attorno al boss quello sì quello sì quello va fatto allora passiamo a Larxin Larxin personaggio figo comunque che ha trovato un background molto interessante che probabilmente continuerà a far parte della saga di Kingdom Hearts waifu sgravata mia madre assolutamente waifu sgravata ci mancherebbe altro però in termini di boss fight purtroppo devo dare il mio primo mid nel senso che questa boss fight non ha niente di entusiasmante quando l'ho affrontata come siluetta assente non ricordo quanti try mi avesse richiesto comunque non mi ha entusiasmato come fight e durante le data battles che è quello su cui mi devo basare per questa tier list ci ho fatto solamente due tentativi un solo game over ho visto pochissimo del fight perché per qualche ragione i suoi cloni prendono tutti danno ma hanno una vita comune un po' come i 13 cloni alla fine di kingdom hearts 3 quindi la shot praticamente in un secondo senza neanche provare a cisarla cioè proprio quello che succede e quindi mi sento di dire che non è una gran boss fight non è una gran boss fight perché finisce in 15 secondi prima che tu possa capire cosa stia succedendo e non ti mette di fronte praticamente a nessun livello di sfida ovviamente si potrebbe ribattere che potrei affrontarla a livello più basso potrei farla a livello 1 eccetera eccetera però stiamo parlando di quello che sono stati i miei data boss nella mia run affrontati a livello consigliato per i data boss quindi in queste condizioni devo metterla su mid magari potrei ricredermi in un altro tipo di run quello ci mancherebbe ci mancherebbe però per il momento mi spiace Darkseed ma sei mid Marluxia ecco su di lui invece bisogna andare un attimo indietro tornare indietro a quando è stata affrontata la sua silhouette assente che ho affrontato a livello 35 secondo la wiki e vari consigli online il livello consigliato per affrontare Marluxia silhouette assente non data è livello 80 che sembra in effetti molto alto molto più alto sostanzialmente di quasi tutti gli altri boss del gioco persino il boss finale non dovrebbe essere affrontato a livello 80 anche Sephiroth diciamo Sephiroth tra il livello 70 e il livello 80 quindi sarebbe un super boss la mia chat voi mi avete detto ma è così soltanto per via della sua meccanica sentenza che ti mette il numero del tuo livello sulla testa e determina il numero di colpi che puoi prendere va bene ok allora l'ho affrontato a livello 35 l'ho affrontato a livello 35 il problema è che durante il fight due o tre attacchi difficilmente predictable continuavano a shottarmi dopo che è successo un paio di volte ho chiesto alla chat scusate ma è normale cioè questi attacchi devono shottare o dipende dal mio livello e la chat mi ha risposto non dipende dal tuo livello questi attacchi shottano sempre se anche l'affrontassi a livello 99 verresti comunque shottato da questi attacchi ok l'ho battuto comunque mi ha richiesto parecchi try mi sembra 30 o 31 la sua silhouette assente è neanche il data e dopo averlo battuto ho considerato che era una boss fight di merda perché inserire così tanti attacchi unpredictable e che one shot non è divertente distrugge il divertimento del fight ciao tomat la verità è che mi avete mentito spudoratamente perché quando ho affrontato la versione data all'interno del giardino dell'assemblaggio che è molto più potente di quella esatto e poi si è dimostrato una menzogna neovhen esatto ciao lui quando ho affrontato la versione data all'interno del giardino dell'assemblaggio che ovviamente è molto più potente che è scalata per essere affrontata a livello 99 quegli attacchi non solo non one shottavano ma non toglievano nemmeno metà della vita ok questo ovviamente mi ha fatto rivedere completamente la mia posizione su questa boss fight che a questo punto era diventata molto divertente perché se anche è vero che un attacco unpredictable potrebbe rovinare il divertimento è chiaro che nel momento in cui quell'attacco non ti one shotta e quindi non vieni punito con il game over ma semplicemente con il danno come dire se vuoi farla perfetta devi stare super attento anche a quegli attacchi che sono unpredictable ma puoi goderti la boss fight anche se uno o due di quegli attacchi ti colpiscono nel corso dello scontro e allora e allora le cose cambiano profondamente e parlando ora nello specifico del suo fight come data che poi alla fine in realtà è simile a quello come silhouette assente la sua gimmick mi è piaciuta mi piace perché la gimmick sentenza che è quella che ti mette in testa con il tuo livello è una meccanica molto divertente dal mio punto di vista poi la verità è che questi fight sarebbero da affrontare a livello 99 perché sono i super boss del gioco quindi se non devi andare lì maxato dove dovresti andare maxato quindi è ovvio che sono dei fight pensati per essere fatti al massimo del livello ed effettivamente a livello 99 è difficile che tu muoia perché prendi 99 colpi sono veramente tanti però può aggiungere un ulteriore livello un ulteriore strato di sfida durante invece un fight a livello magari un po' più basso quindi perché no bella meccanica e mi piace molto che il fight in sé giri attorno al combat system che per me è una cosa molto importante infatti io da non amante delle gimmick amo i fight che girano attorno al combat system ma integri ulteriormente questa sua gimmick del livello 99 dandoti alla fine delle tue opening no non alla fine delle tue opening in realtà ma in determinati momenti non necessariamente alla fine delle tue opening ma dandoti la possibilità di usare due comandi di reazione a tua uno dei due a tua scelta che possono fare una di queste due seguenti cose infliggere ingenti danni al boss quindi velocizzare il tuo processo di distruzione oppure farti recuperare cinque colpi quindi aumentare di cinque il numero di livelli sopra la non di livelli il numero di punti sopra la tua testa che vanno a scalare ogni volta che vieni colpito quindi puoi scegliere tra un'opzione offensiva e un'opzione difensiva e questa cosa è molto divertente quindi in questo modo la gimmick e lo dico da non amante delle gimmick viene integrata perfettamente nella boss fight senza quindi andare a coprire completamente lo spirito del combat system e crea una boss fight che dal mio punto di vista è molto bella quindi non direi sgravata ma molto bella si conteggio danno che la rendono più interessante esatto mestrer quella è una bella gimmick è una bella gimmick aspe quindi se uno la fa a livello 1 la deve fare no hit a priori esatto esattamente infatti immagino che questo sia il data level 1 più più difficile di tutti più difficile di tutti da fare appunto level 1 i fiori non danno il tier in più e purtroppo a cavallo lo mettiamo a metà tra queste due così lo tengo qua col mouse tutto il tempo no è molto bella è molto bella non è sgravata però è molto 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 bella poi è possibile che magari man mano che andiamo avanti vedendo che posizione stiamo dando agli altri potremmo valutare di magari far fare qualche level up o level down a qualcuno quindi non è ancora definitiva ripeto contando poi che la gimmick cita chain of memories è un tocco di classe figo ma infatti non avevo diciamo considerato il richiamo a chain of memories cosa intendi con il richiamo a chain of memories io l'ho giocato chain of memories ma in che senso non mi ricordo che ti metta la sentenza in testa nemmeno si può fare marlux a level 1 come fai in un secondo no jintock non è una questione di tempo il counter ti stai confondendo con il counter che ti mette in kingdom arts 3 che scende col passare del tempo ma il counter che ti mette in kingdom arts 2 sentenza scende quando vieni colpito non è una cosa legata al tempo hai fatto un attimo confusione con il data del 3 mette sentenza anche in chain of memories se non erro ah ok non me lo ricordavo ho giocato solo una volta chain of memories non me lo ricordavo mi ricordo ovviamente che è il boss finale mi ricordo tra l'altro la sua super forma sgravata da nobody su cui ci sono anche teorie ho visto anche gente teorizzare cose legate a strelizia su quel su quel su quel nobody comunque proseguiamo 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 con mette sentenza anche in chain a seconda delle carte puoi riprendere i punti ah sai che non me lo ricordavo vedi bisognerà ritornare su chain of memories anche se non mi entusiasma molto farlo perché non ho amato il combat system però devo dire che dal punto di vista di storia è uno dei dei kingdom arts con la trama più avvincente che fa più venire voglia di andare avanti e scoprire cosa succede dopo non che gli altri non lo facciano però ho amato particolarmente la trama in chain of memories allora passiamo a demetrio demix questo è uno dei fight più odiati da quello che ho capito almeno parlando con voi non è non è particolarmente amato perché la sua gimmick è effettivamente molto fastidiosa però c'è da dire una cosa sulla sua gimmick al contrario di altre gimmick esatto dance water dance al contrario di altre gimmick come possono essere quella di marluxia o quella di lexius che diciamo vanno a creare un vero e proprio elemento di di gameplay da gestire la sua va semplicemente capita cioè nel momento in cui tu sai come si eliminano quei cloni acquatici il successo è praticamente garantito cioè vai infusione giudizio spammi firaga lì fai fuori fine devi soltanto regolarti un pochino magari con gli etere e con la barra degli mp per evitare di rimanere a secco però diciamo è abbastanza semplice da fare la gimmick è difficile solo capire come si deve fare questo uccide un po' la replayability perché ovvio che una volta che sai esattamente come devi fare quella cosa vai ad annullare il livello di sfida però c'è una cosa importante da dire che anche se nel suo caso la gimmick non è particolarmente ben integrata al resto del fight come per esempio nel caso di Marluxia comunque il resto del fight è divertente e gira attorno al combat system io ho un debole per questi fight che non sono gimmick che girano attorno al combat system e che sono un po' più tecnici e quindi mi è piaciuto cioè per me Demix è una bella boss fight ora non direi che è molto bella ok anche perché ci sono delle cose che non ho capito e di conseguenza forse quindi non ho apprezzato però non mi è sembrato molto leggibile non ho ben capito quando e come c'erano le sue opening a volte sembrava un po' inconsistent sicuramente dipende dal fatto che non l'ho studiato abbastanza però personalmente per quello che che ho fatto mi è sembrato così quindi io direi che Demix comunque ci sta ma ci sta decisamente più di loro due quindi meglio meglio di Lexus e Zexion a mani basse però non arriva nel molto bella a proposito non vi ho detto il numero di game over per tutti questi boss quindi Marluxia non ve l'ho detto ma è stato quanti tentativi un solo un solo game over quindi due try mentre per Demix un po' di più otto game over quindi nove try nove try comunque data Kingdom Hearts 3 è molto migliore no per me soggettivamente sì poi magari ne parleremo meglio in un altro momento comunque per me sì sono migliori quelli del 3 però sono diversi sono diversi sono diversi allora Axel Axel è stata la nota dolente dei miei data infatti è quello che mi ha richiesto più tentativi di tutti e se escludiamo Lingering Will è anche il boss in tutto il gioco che mi ha richiesto più tentativi di tutti escludendo appunto Lingering Will che mi ha richiesto ieri quando l'ho affrontato per la prima volta in modalità critica 76 non mi aspettavo fammi vedere 78 78 game over quindi 79 tentativi quei fantastici 50 e passa try infatti Axel mi ha richiesto 54 try 53 game over quindi 54 try esatto quello che dice Matteo è giusto e allora il punto per me con Axel è stato questo la sua boss fight probabilmente è la più facile di tutte veramente cioè per quanto sia quella che mi ha richiesto più tentativi di tutte ed è quasi il doppio di quella che sta al secondo posto ma per me è la più facile di tutte poi a conti fatti una volta che l'ho capita il problema cioè per me quello che per me è stato il problema in questa boss fight è che è estremamente confusionaria alla fine all'atto pratico il suo moveset è una cagata sono tre attacchi ok anzi sì sono praticamente due attacchi e una una dm sono tre attacchi ora magari me ne sto perdendo qualcuno ma mi sembra che sia veramente un moveset super elementare non ha un pattern fisso come praticamente nessuno di questi data ma non è importante quando gli attacchi sono solo tre e uno lo fa solo da un certo punto in poi il problema ovviamente non sono i suoi attacchi ma sono ma è tutto ciò che c'è attorno quindi il terreno che infligge danno costante anche se non ti può shottare le fiamme tutte attorno all'arena sulle quali vai necessariamente a sbattere mentre lo scombi e dalle quali poi lui riesce infliggendo danno tra l'altro il terreno ti può portare a un HP e le fiamme a bordo arena possono toglierti quell'ultimo HP quindi questa roba diciamo la rende una boss fight estremamente confusionaria e è un modo secondo me un po' artificiale di aumentarne la difficoltà che però fallisce nell'aumentarne il divertimento perché almeno per me è stato difficile capirlo difficile leggerlo poi non ho provato a spammare fusioni cercare di di brutforsare nessuna di queste boss fight quindi ho sempre cercato di capirle che è il motivo per cui contro alcuni ho fatto parecchi parecchi game over probabilmente si può anche cercare di brutforsare in qualche modo ma soprattutto come dice giustamente Matteo in realtà si può facilmente cheeseare devo dire una cosa però contrariamente a quanto dice Matteo per me la strategia cheese è dannatamente divertente infatti quando l'ho scoperta mi sono divertito come un pazzo a scioglierlo in una no hit in quel modo ed è un po' un pensiero che ho in generale su tutti questi boss ed è qualcosa che ho già detto anche nelle live precedenti secondo me se in kingdom hearts 3 abbiamo degli scontri tecnici dove aumentare il livello di difficoltà quindi andare in modalità critica fare la no damage usare il keyblade più debole non usare le fusioni e via dicendo usare i pro codes può oltre ad aumentare appunto la difficoltà aumentare anche il divertimento aumentare anche il divertimento in kingdom hearts 2 secondo me questa roba viene un po' a mancare cioè non ho nessuno stimolo ad aumentare la difficoltà di queste boss fight perché aumentare la difficoltà di queste boss fight nella maggior parte dei casi significherebbe semplicemente metterci più tempo a completare la loro gimmick oppure ripetere più volte il completamento della loro gimmick e quindi però al contrario dov'è che secondo me va a crescere il divertimento nello sciogliergli il più possibile nel picchiarli il più forte possibile forse un po' anche nel vendicarsi come dice Matteo ma adesso al di là della vendetta è proprio divertente secondo me andare a cercare strategie per distruggerli e per romperli quanto più possibile quello mi sembra più divertente rispetto al far crescere il livello di difficoltà e infatti ripeto con Axel mi sono divertito a scioglierlo alla fine mi sono divertito molto più a scioglierlo che a batterlo normalmente detto questo non è una brutta boss fight dice ok se lo uccisi lo fai due volte e poi ti annoi sì no certo ma infatti non sto parlando di rifarlo ogni giorno però dico secondo me può essere più divertente andare a capire come si rompe il boss e farlo una volta ovviamente una due volte poi non è che lo rifai all'infinito piuttosto che invece dire ah no allora adesso me lo faccio con Sweet Memories a livello 1 che va benissimo che può essere divertente però per come funzionano queste boss fight che alla fine vanno molto a coprire il combat system che secondo me è il punto forte di questo gioco io questo stimolo sinceramente non ce l'ho con la maggior parte di questi boss mentre con Kingdom Hearts 3 l'ho avuto quindi semplicemente questa era semplicemente una considerazione secondo me Axel ci sta Axel ci sta ma mi è piaciuto più anche di Demix alla fine probabilmente per via del fatto che mi sono divertito molto a distruggerlo una volta che ho capito come si rompeva la sua IA lo so che forse non dovrebbe essere un fattore da tenere in considerazione per questa tier list però c'è da dire anche che nel suo fight la gimmick è integrata meglio rispetto a quello di Demix dove veramente è semplicemente ok adesso ci prendiamo una pausa e distruggiamo i clonini d'acqua quindi secondo me ci sta Axel ci sta comunque poi è un personaggio molto interessante quindi la sua boss fight è carica di emotività secondo me è figo mi sono divertito per assurdo di più a sconfiggerlo con Roxas all'inizio gioco secondo me è più bella quella boss fight lì per quanto sia più semplice è figo perché c'è quella situazione in cui Roxas poi prende i due keyblade insomma mi sono divertito più lì però è una bella boss fight secondo me può prendersi un ci sta tranquillamente e può stare in cima ai ci sta almeno per ora passiamo a Luxord Luxord è la mia boss fight spreferita ok quella che mi piace meno di Kingdom Hearts 3 dei data di Kingdom Hearts 3 ed è anche l'unica boss fight tra i data di Kingdom Hearts 3 che è realmente una gimmick in questo caso invece diciamo non si differenzia molto dai suoi colleghi perché sì è una gimmick ma come lo sono quasi tutti gli altri anche se c'è da dire che nel suo caso nel suo caso la gimmick è motivata nel senso che lui è un personaggio particolare è un personaggio che combatte con le carte e quindi ci può stare che abbia delle gimmick che girano attorno alle carte da gioco al dado ci può stare che crei dei veri e propri mini giochi all'interno della boss fight quindi è figo concettualmente ma non è figo praticamente perché in realtà quelle gimmick sono molto fastidiose non mi è piaciuto come fight vabbè questo secondo me è da ricercarsi anche nel fatto che io non amo le gimmick quindi insomma è ovvio non dico che sia fatto male però non è piaciuto a me e purtroppo devo dire che Luxord non è terribile perché terribile per me è qualcosa che è proprio fatta male però è mid e non solo è mid ma è anche mid dietro l'Arxin è mid dietro l'Arxin pronti a guarnare ok ok abbiamo Poon super fan di Luxord a me dispiace ma è proprio un personaggio che non mi ha mai particolarmente coinvolto anche dal punto di vista di trama nemmeno adesso che l'hanno reso Uber Driver cioè proprio non lo so non mi dice molto e come boss purtroppo lo trovo mediocre mediocre fatta male perché puoi utilizzare il pause buffering per cittare no allora se dovessi considerare anche le falle di programmazione dovrebbero tutte scendere di 15 rank perché sono tutte fallate in qualche modo basti pensare al enorme problema del revenge value che non sale con con i firaga ma non è questa secondo me distanza per giudicare quell'aspetto lì quindi non giudico l'accisabilità del fight ma parto dal presupposto che uno provi a farlo come lo deve fare ok come gli sviluppatori volevano e se in quel caso è fatto bene o fatto male non quanto sia bucabile quello no anche perché parliamo di un gioco che comunque è del 2007 perché c'erano anche grandi limiti tecnici e c'era meno esperienza da parte del team che ha sviluppato il gioco quindi va bene non c'è bisogno di accanirsi sui sui potenziali buchi che queste boss fight hanno piuttosto magari su quelli che invece secondo me sono errori proprio non di programmazione non buchi di programmazione ma errori di design ok quelli voglio giudicare sono d'accordo in realtà sulla sua boss fight che è veramente terribile per voi addirittura è terribile no per me terribile no terribile vuol dire proprio che è una cosa fatta male ok questa boss fight per me non è divertente ma non è che è fatta male solo che non è divertente e nonostante tutto hanno tirato fuori il miglior gioco della serie esatto Pino esatto per qualcuno se evocava drago bianco chi blu era sgravato sì sono d'accordo se non metti lui interribile è già un'altra idea su chi mettere interribile in realtà sto andando non me la sono preparata sto andando così a braccio in realtà non metterei forse nessuno interribile allora magari proprio per evitare di lasciare un rank vuoto ok per cercare di spalmare meglio queste boss fight posso dire che lui è la peggiore di tutte e quindi per questo motivo spostarla interribile ci sta però ci tengo a dire che è un terribile moderato ok anche se è un po' sarebbe un po' assurdo però è un terribile moderato nel senso che ci sono boss fight peggiori di questa però questa è la più brutta di tutte quelle che stiamo analizzando ok è la più brutta sicuramente di quelle che stiamo analizzando e vedo che su questo siamo abbastanza in linea come pensiero io e la chat allora chi abbiamo ah quanti quanti trai per luxord quanti trai per luxord lo vediamo subito lo vediamo immediatamente 4 game over quindi 5 trai va bene abbiamo poi zigbar ma in totale mi è data quante det in totale solamente in tutti data 184 det solo data gioco base 164 sefirot 2 quindi 166 per tutto il gioco diciamo per tutto kingdom hearts 2 nella sua interezza compreso di boss finale più altre 184 per i data più altre 78 per lingering will zigbar molto bella devi giocare a cod in kingdom hearts ecco allora zigbar diciamo a una gimmick particolare perché in realtà la sua gimmick non è tanto legata come al solito nelle altre ai comandi di reazione ma più a quello che lui fa con l'arena perché la cambia ne cambia la forma e devi un po' inseguirlo non mi fa impazzire non non è una boss fight che mi che mi ha entusiasmato e soprattutto è forse più di tutte queste boss fight quella che mi ha ricordato un enorme problema di kingdom hearts 2 che è stato un pochino fixato nel 3 anche se non del tutto ovvero il fatto che tu non possa fare o meglio stavo dicendo non possa fare niente in realtà tu non possa usare la tua parata ok in modo reattivo quindi questi nemici sono sempre troppo più veloci in particolare lui ma anche altri durante il gioco sono troppo più veloci del tempo di animazione che Sora ha per parare al punto che l'unico modo per parare efficacemente è predire l'attacco tu non puoi reagire a un attacco con una parata e visto che la parata è al centro del combat system perché va bene che ci hanno messo reflex che tra l'altro è sgravatissimo però la parata in un videogioco dove alla fine il combat system è fatto di attacchi schivate e parate diciamo che è uno dei punti fondamentali secondo me la parata non può essere limitata ad un uso preventivo ok deve essere possibile utilizzarla anche secondo me in modo reattivo anche perché la parata di Kingdom Hearts è più simile a un Perry che ha una vera parata tu non puoi metterti in guardia come succede per esempio in un Souls in Kingdom Hearts 3 in realtà poi hanno trovato un modo anche di farti mettere in guardia con alcune fusioni e va bene ma poi in Kingdom Hearts 3 c'è molto meno questo problema anche se un pochino a volte si sente però qui si sente tantissimo e in questa boss fight secondo me viene fuori un sacco quel quell'aspetto quel quel difetto del combat system e quindi non direi che comunque è un brutto fight ok non direi che è un brutto fight questo no però non riesco a dire che è molto bello perché comunque mi ha causato un po' di frustrazione il fatto che alla fine il modo realmente efficace per gestirlo sia devi usare Reflex va bene perché Reflex può essere spammato perché Reflex può essere usato reattivamente e non in modo e non con una predizione dell'attacco grazie mille Lupin Chandler per il follo e quindi alla fine mi ha un po' mi ha un po' dispiaciuto perché questa è tutta una boss fight che gira attorno al mandare indietro i suoi colpi fermarli insomma e tutto questo e se non sai esattamente quello che sta per fare quindi se non conosci il fight non puoi usare uno degli elementi fondamentali del combat system ma devi ricorrere a un elemento che obiettivamente è un po' sbilanciato perché Reflex è un bel po' sbilanciato e quindi non 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 può prendere più di ci sta e tra l'altro va anche dietro Axel e Demix va assolutamente dietro Axel e Demix buongiorno Lupin secondo me nel 3 hanno tolto Reflex proprio per questo motivo ma allora guarda Reflex è giusto che sia andato via perché è rotto ma è giusto anche che sia andato via insieme a un gran miglioramento del sistema di parata che non solo adesso in Kingdom Hearts 3 può essere effettuato in aria in aria che che secondo me è una cosa importantissima ma tra l'altro che ha dei tempi di reazione molto più più brevi poi tra l'altro vabbè c'è anche tutto un discorso su quanto velocemente si riescono a cancellare delle azioni per esempio in Kingdom Hearts 3 e su come i nemici reagiscano a certe cose una cosa per esempio che ho notato è che molto spesso quando raggiungi il revenge value di un nemico in Kingdom Hearts 2 lui reagisce con un attacco immediato che crea un hitbox nel punto in cui lui si trova il punto in cui lui si trova chiaramente è il punto in cui ti trovi anche tu ok perché lo stai attaccando se no il revenge value non l'avrebbe raggiunto e di conseguenza risulta in un hit certo su di te o quasi certo diciamo che questo è un problema relativo perché tu puoi scegliere di non andare a raggiungere il revenge value di quel nemico e quindi lavartene le mani e non rischiare però comunque ci sono delle situazioni in cui alcuni nemici hanno dei punti all'interno della loro barra della vita in cui reagiranno come se avessi raggiunto il revenge value vuol dire che se tu in quel momento stai colpendo il nemico lui reagirà con un attacco e la reazione sarà quella di sostanzialmente fare un'animazione creare un hitbox nel luogo in cui vi trovate colpendoti per forza questa cosa è molto frustrante anche perché è quello che è successo ieri a me con l'ingering will non permettendomi di capire quando raggiungevo realmente il suo revenge value e questa cosa l'ho scoperta dopo andando a cercare un po' online il funzionamento della boss fight dopo averla finalmente battuta questa cosa in kingdom hearts 3 è stata enormemente migliorata è stata tanto non ci sono più nemici che fanno così tutt'al più quando un nemico deve entrare in un momento specifico per forza in un attacco inizia un'animazione che ti avvisa che sta succedendo e ti permette di reagire ma soprattutto quando vai a raggiungere il revenge value il nemico non crea una hitbox istantaneamente ma ti dà il tempo di cancellare la tua azione che può essere un attacco o qualunque altra cosa e allontanarti oppure anche se raramente questo è possibile parare l'attacco che viene fatto come risposta al revenge value anche se spesso gli attacchi di risposta al revenge value non sono parabili e questo secondo me ci può stare però ti puoi togliere almeno quindi scusate la piccola sono uscito un po' di strada con questo discorso forse primo boss con cui non sono d'accordo io non vedo lo spam di reflex come un difetto e per questo zigbar mi piace un sacco no ma non vedo lo spam di reflex in sé come un difetto però mi ha un po' infastidito il fatto che non potessi usare una meccanica che secondo me è una meccanica base del gioco cioè la parata la parata secondo me è una meccanica base del gioco e e e togliermela così cioè dirmi sì sì questa è la tua meccanica che funziona e con cui puoi puoi gestire gli attacchi dei nemici e poi ti metto però un nemico che è ovviamente unpredictable e quello ci sta fa attacchi a cazzo di cane e quello ci sta e ti metti in una condizione di stun continuo per cui l'unico modo in cui tu puoi realmente reagire ai suoi attacchi è il reflex che è una meccanica sgravata sbagliata alla fine che si può facilmente abusare e quindi alla fine va a rovinare un po' il senso del fight secondo me carina la tier molto interessante anche perché essendo fan ne predo subito la mia attenzione grazie lupen sono contento che ti piace sono contento anche che sia qui a seguirla quindi non lo so non lo so per me ragazzi ci sta il back l'hai fatto non ho fatto il backflip ragazzi giusto giusto masca ha rispettato un backflip ragazzi 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 siete pronti 1 2 3 backflip fatto ma il fatto che sia sgrava non è un po' lo stesso discorso del cheese di Axel ma non è un cheese in questo caso cioè non lo stai rompendo con reflex reflex è sgravo di per sé cioè reflex è una meccanica sgrava mentre Axel lo puoi rompere puoi farlo ziggi senza reflex assolutamente assolutamente però devi predictare tutto ma è difficile come Axel senza cheese è difficile ma in realtà Axel senza cheese poi non è difficile è solo confusionario secondo me però è diversa Matteo questa roba qua perché il cheese di Axel è qualcosa che rompe Axel no? è proprio sfruttare la sua gimmick per distruggere la sua IA ok? perché banalmente per chi non lo sapesse se voi raggiungete il revenge value nella prima opening di Axel lui reagirà sempre e necessariamente con quel set da tre comandi di reazione che vi permette di rimuovere il fuoco da terra e dalle pareti se voi prendete solo il primo comando di reazione o solo il primo e il secondo senza prendere il terzo lui cadrà stordito per terra e potrete nuovamente attaccarlo avrete nuovamente un opening se anche in quel caso raggiungerete il revenge value lui ripeterà lo stesso attacco dei tre reaction command e quindi potrete looparlo all'infinito questa chiaramente è una falla di programmazione non credo che gli sviluppatori volessero che questo accadesse però accade però appunto quello che ti dicevo Matteo è che in quel caso tu vai a rompere specificatamente o specificamente qual è più corretta qualcuno mi fa un quick search sul tre cani è specificamente o specificatamente comunque una delle due vai a rompere la boss fight ok mentre in questo caso usi semplicemente una meccanica rotta per evitare di fare ciò che dovresti fare nella boss fight ma non stai andando a rompere la boss fight è solo una roba che ti ricorda la parata in questo gioco non funziona come dovrebbe funzionare penso specificatamente però sopra March mi scrive specificamente ok ok qualcuno deve fare il quick search sul tre cani ragazzi è l'unica ci vuole il quick search forza in maniera specifica perfetto Pino bravissimo scusate ragazzi io sono senza acqua vado a prendere una boccia d'acqua e arrivo subito grazie a tutti rieccomi acqua direttamente caduta dal condizionatore esatto infatti avevo messo sotto la bottiglia e ora l'ho presa allora non vi ho detto i game over per Zigbar che sono stati 12 quindi 13 tra i complessivi square questa è la tua parata usala per questa boss fight nox ma non mi serve qui square appunto esatto questa è la situazione esattamente la situazione con 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 Zigbar e passiamo a Sykes allora amore odio nel senso che la boss fight parte molto bene senza abusare di gimmick assurde ed è molto divertente perché comunque in realtà ha una sua gimmick è quella del berserk gimmick che poi tra l'altro è presente anche nel fight di Kingdom Hearts 3 però a un certo punto Sykes decide di andare all Kingdom Hearts 2 on it e di rendere la sua gimmick snervante a merda con una fase berserk in cui continua a fare cerchi per terra che puoi facilmente glidare e non ti prenderà mai ma alla fine della quale lancia la sua claymore che è la sua arma e e tu devi prenderla con un reaction command e colpirlo con la sua stessa arma per farlo uscire dalla fase berserk se non lo fai lui la ripete all'infinito ok il comando di reazione che ti permette di prendere la sua arma è piuttosto rapido non dura molto quindi devi essere vicino a dove la lancia ma se vieni colpito dall'arma mentre la lancia vieni sobbalzato via e non farai in tempo ad andarla a prendere va bene ma c'è un secondo problema perché questo sarebbe ancora ancora sopportabile lui dopo che l'ha lanciata continua a muoversi e a fare altre cose e tu devi usare un secondo comando di reazione una volta che hai raccolto la sua arma con il primo comando di reazione per colpirlo con l'arma però se non lo fai entro due secondi non puoi più farlo l'arma scompare e devi aspettare che la rilanci e visto che quando impugni l'arma ti muovi più lentamente ti muovi a cazzo di cane come se avessero spalmato un quintale di burro sul pavimento è molto difficile andare a beccare quello stronzo che pure lui continua a muoversi e quindi alla fine della fiera hai una prima metà del fight che è abbastanza divertente e poi una seconda metà che è a chiapparella dove devi inseguirlo all'infinito non è difficile non è difficile è facile ma è noioso e snervante e quindi e quindi Ginto che cazzo com'è possibile che mentre cucinavo gli hamburger sono diventati cotti dentro e crudi fuori questa cosa è impossibile credo basta usare la fusione non lo so non ho provato a spammare fusioni in quasi nessuno di questi fight quindi non so se c'è qualcosa che si può rompere con la fusione in effetti comunque alla fine io la sua boss fight non l'ho rotta l'ho semplicemente fatta come andava fatta non è brutta peccato per quella seconda parte perché la gimmick lì un po' rovina tra l'altro gimmick che era partita anche bene perché la meccanica del berserk che lui è più incazzato quando è in berserk che poi però si deve fermare un po' e quindi tu lo puoi picchiare che le finisher possono rompere la sua carica berserk e darti un opening reale in mezzo alla sua carica erano fighe però poi mi cade su questa roba qui devo dire comunque devo dire comunque che al netto di questo danno di questo errore lui va nel cista ed è probabilmente subito dopo Demix subito dopo Demix in realtà forse anche prima di Demix non lo so sono molto combattuto o subito prima o subito dopo o subito prima o subito dopo è quello è quello è quello è quello va bene Vexen allora Vexen è una boss fight molto difficile una delle più difficili tra queste ed è troppo confusionaria tra le gimmick a mio parere è la peggiore allora lui ha due gimmick insieme nel senso che ha la gimmick che riguarda lo scudo che tutto sommato non è malvagia e la gimmick che riguarda Antisora che tutto sommato non è malvagia sapete cos'è malvagio? l'insieme di queste due cose perché insieme è troppo ok? troppa confusione in un'arena che comunque è piccola e con in particolare piccola nota sulla gimmick di Antisora come funziona? c'è un cerchio per terra che quando gli sei all'interno raccoglie i tuoi dati con una barra di caricamento per poi creare un Antisora però questo cerchio li raccoglie anche se tu sei in aria ok? se tu sei in aria ma perpendicolare no perpendicolare non so se il termine è giusto comunque se sei in aria ma sopra questo cerchio comunque lui i dati li raccoglie lo stesso e visto che quando effetti una combo non ti muovi molto e che il cerchio ha un tracking su di te e ti insegue praticamente tu sei costretto a farti rubare questi dati e a continuare ad affrontare Antisora tra l'altro sempre più potenti perché si potenziano di livello in livello perché o smetti di attaccare l'avversario e gli Antisora che ha già creato oppure necessariamente mentre attacchi troverai fermo e vedrai i tuoi dati essere scaricati illegalmente dal cerchio di Vexen ciao fra e quindi direi per me non è una boss fight mid perché comunque ha delle idee carine cioè le due gimmick di per sé non sono brutte quella dello scudo secondo me è perfetta va benissimo e da sola l'avrei anche lasciata così mentre quella di Antisora magari avrei modificato un pochino questa cosa in modo da permettere al giocatore che non voleva farsi toccare dal cerchio di dati magari di sfruttare l'aria no di stare in aria per colpire in modo da non essere downloadato da Vexen magari ecco avrei fatto questa piccola modifica e non le avrei messe insieme nel complesso comunque non è una brutta boss fight secondo me lui ci sta e vi dirò che comunque mi piace più di Zexion ma meno di tutti loro questa è un'altra boss fight che secondo me diventa più divertente quando la rompi quando la triti ho visto qualche speedrun ovviamente il metodo diciamo di di tritamento più comune di Kingdom Hearts 2 ho scoperto essere il Final Form Firaga e ho visto che fa dei buchi allucinanti comunque è stato divertente io mi sono divertito a farla perché anche se non l'ho cisata non sapevo che potessi completamente cisarla comunque ho un po' autonomamente attuato quella strategia sapendo che era debole al fuoco ho ricevuto qualche dritta un pochino dalla chat e alla fine l'ho battuto quasi con il metodo della speedrun strat anche se poi effettivamente è stato tutt'altro che una speedrun ed è stata tutt'altro che una boss fight pulita però comunque mi sono divertito quindi lo metto in cista però ha dei grandi problemi che non mi permettono di spostarlo più in alto non mi permettono Vexen poi 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 se non si lava da mesi sono d'accordo basta guardargli i capelli per capirlo io non penso che Vexen possa essere più bello di Larxin ma Larxin io non ho visto niente cioè l'ho affrontata l'ho distrutta e basta cioè tutto quello di bello che possono aver messo il Larxin è irrilevante se dopo 15 secondi il fight è finito e l'hai vinto secondo me ah Vexen a proposito di cornetti persi da Neoven Vexen ci ha richiesto un bel po' di try Vexen 13 13 try 14 scusate 14 quindi 13 game over 14 try complessivi ora rimangono gli ultimi 3 aspettate che accendo la luce ecco fatto oddio bello ne ha persi 5k con Vexen eh si eh si eh si volevi dire forse first try esatto first try ovviamente Xaldin puoi procedere a metterlo in terribile va bene non ne dobbiamo neanche discutere quindi lo sappiamo allora ehm no discutiamone discutiamone Xaldin è eh forse l'apoteosi di quello che non mi piace di Kingdom Hearts 2 nel senso che è una boss fight interamente gimmick che rimuove dal quadro la cosa migliore che Kingdom Hearts 2 sa fare cioè il combat system il combat system di Kingdom Hearts 2 in questa boss fight non esiste perché devi unicamente giocare con la gimmick gimmick che può essere divertente che può non essere divertente per quanto mi riguarda può anche esserlo non è malaccio la gimmick in sé il fatto di apprendere dei comandi di immagazzinare dei comandi tramite il comando di reazione per poi utilizzarli in un secondo momento ci sta è carina tutto quello che c'è attorno però fa cagare perché eh fa cagare che lui non possa essere aperto in nessun modo che non sia la sua gimmick poi sì lo so che tecnicamente mentre lancia le palle se gli fai un reflex molto vicino puoi continuare con hai un opening puoi continuare ad attaccarlo però in realtà anche lui come tantissimi altri di questi boss quando raggiunge il revenge value ti va a picchiare immediatamente e crea istantaneamente un hitbox attorno al punto in cui ti trovi e quindi diventa fastidioso poi ha altri attacchi che sono piuttosto fastidiosi ha un attacco in cui continua a luparsi per tempi infiniti con un teletrasporto e poi a infliggere danni a creare delle hitbox dove si è teletrasportato e ovviamente quel luogo dove si è teletrasportato è accanto al tuo culo e questo attacco da quanto ho capito l'unico modo safe per fermarlo è usare la magia magnete ora qualcuno potrebbe dire vabbè il gioco ti dà l'opportunità di interrompere l'attacco e di proseguire con il combattimento ok ma che cazzo c'entra magnete è chiaramente un errore di programmazione non era pensato per funzionare così perché magnete dovrebbe fermarlo e invece lo ferma vabbè detto questo non è non è un fight che mi è piaciuto potrei continuare a dire cose negative su di lui ma penso che non servano sappiamo già che è un fight effettivamente terribile terribile tra l'altro è credo al secondo posto per per try richiesti perché me ne ha richiesti ben 31 31 game over quindi 32 try quindi comunque meno di axel per qualche ragione però è terribile ed è terribile più di luxord forse più di luxord perché anche se anche luxord è una boss fight interamente gimmick però diciamo nel suo caso è contestualizzata un pochino meglio e tutto sommato l'ho odiata meno forse non lo so non so giustificarlo davvero l'unica cosa che mi viene in mente è che è contestualizzata meglio comunque l'ho odiata meno l'ho odiata sicuramente meno va bene allora rimangono gli ultimi due gli ultimi due che ho tenuto per ultimi anche quando li stavo affrontando sono due boss fight su cui c'è da discutere c'è da dire delle cose partiamo da roxas il penultimo tra quelli che ho affrontato mi ha richiesto ve lo dico subito questa volta mi ha richiesto 28 try 27 game over e nessuno di questi è stato mai frustrante è una boss fight bellissima è l'unica tra tutte queste 13 compreso anche Xemnas di cui parleremo dopo che non ha una gimmick perché tecnicamente ce l'ha mi riferisco al comando di reazione che permette di rubargli i keyblade e utilizzarli a proprio vantaggio potrebbe essere considerata una gimmick ma è del tutto marginale può essere del tutto ignorata e non è nemmeno certo che appaia durante lo scontro non è nemmeno certo che appaia durante lo scontro in aggiunta a questo parliamo di un fight con una musica incredibile scenicamente incredibile con un personaggio incredibile che sono tutti punti a favore dell'atmosfera che si va a creare ma non voglio che pensiate che sia questo il motivo per cui secondo me Roxas è assolutamente sgravato perché il motivo è non solo questo ma anche il fatto che siamo di fronte all'unica vera boss fight tecnica tra questi data dove devi usare il combat system dove devi capire quello che sta facendo l'avversario poi vabbè sicuramente ci saranno dei modi per romperlo ora io non li conosco però diciamo normalmente l'istinto che si ha dopo qualche try è che bisogna capire quello che sta succedendo bisogna reagire con il giusto tempismo e che non c'è nessun trucco cioè combat system non c'è trucco para contraattacca colpisci capisci quando stai raggiungendo il revenge value valuta se ha senso farlo oppure no per esempio in fase 2 non ha senso farlo perché ecco anche lì piccolo difetto che appartiene a tutti però anche lui ovviamente quando raggiungi il revenge value reagisce istantaneamente creando una hitbox quindi che è quello dell'attacco in cui salta e ti si fionda addosso con 150 keyblade cioè far ruoteare 150 keyblade quindi questo piccolo difetto glielo devo trovare però è un difetto che appartiene a tutti non è un difetto che appartiene a lui assolutamente sgravato assolutamente c'è un modo con tagliamento per romperlo sì sì ma infatti sicuramente ci sono esistono poi vari modi per romperlo però come ho già detto anche sugli altri non valuto quello valuto essenzialmente come è fatto il fight per rompersi si usa il limite da solo ah ok ok secondo te secondo te quale criterio secondo quale criterio stai classificando di data ah ok siete risposto pun allora rimane solo lui the one and only e allora parliamone con calma questo fight non è troppo diverso dalla boss fight finale del gioco che però è una bella boss fight o meglio prende dei delle parti della boss fight finale del gioco e le compila qui è un po' come se fossero due boss già il primo comunque è abbastanza impegnativo la prima forma ma effettivamente come qualcuno mi disse in chat mentre lo affrontavo dopo un po' che hai capito come si batte il primo ribatterlo per arrivare al secondo diventa più che altro una formalità e sono d'accordo è effettivamente è stato così è un boss che mi è piaciuto un sacco perché anche in questo caso nonostante la gimmick ci sia non è predominante è comunque più presente di quanto non sia con roxas nel senso che con roxas la gimmick è praticamente inesistente cioè l'hanno messa perché vabbè la dovevano mettere ma si può completamente ignorare qui non la puoi completamente ignorare perché comunque esiste ok e mi riferisco non tanto alla fase finale in cui devi spammare reflex che non è una gimmick che è solo un quick time events ma alla parte in cui devi usare riku che è abbastanza frustrante ok abbastanza frustrante mi ha fatto anche perdere qualche try però se togliessimo fuori dal dall'equazione quella gimmick lì sarebbe un fight molto divertente perché come roxas è un fight tecnico in cui devi sfruttare il tuo combat system in cui devi capire quando parare quando reagire quando attaccare e via dicendo per quanto mi riguarda sono molto indeciso tra molto bello e sgravato anche se sgravato comunque dopo roxas forse è esattamente a cavallo tra queste due posizioni esattamente a cavallo tra queste due posizioni quindi gli do lo sgravato perché comunque se non fosse per la gimmick non avrei quasi veramente nulla da ridire veramente quasi nulla la gimmick comunque c'è va bene lo mettiamo dietro roxas ma è decisamente decisamente un boss sgravato decisamente un boss sgravato sgravato così la facciamo simmetrica esatto cazzo l'abbiamo fatta simmetrica l'abbiamo fatta simmetrica non voglio dire però cosa ricorda anzi si lo voglio dire un keyblade è un keyblade è un keyblade non ho assolutamente pensato a un'altra cosa appena l'ho visto è chiaramente un keyblade o un pene esatto a me sembra un tridente anche un tridente esatto proprio un keyblade è una e esatto i allora va bene in realtà io mi ero preparato dopo questa tier un'altra tier che volevo fare adesso ma purtroppo mi sono dilungato quei tempi ci ho messo molto più di quanto pensavo a fare questa e quindi sarà per un'altra volta magari può essere che sia anche domani può essere che sia anche domani classifica dei boss segreti no 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 vabbè i boss segreti sono due sefirot e lingering win se volete vi dico dove li metterei sefirot lo metterei su molto bello se fosse qui perché è una boss fight semplice ma è leggibile ha comunque un alto livello di sfida se paragonato ad altri ad altri agli altri boss del gioco base quindi è un buon boss segreto e non ho grandi cose da ridire su di lui tutti i suoi attacchi comunque possono essere gestiti non ha niente di troppo unfair l'ho battuto la prima volta a livello 80 facendo due game over poi ho voluto provarlo a livello più basso quindi ho preso il salvataggio a livello 51 che è quello a cui avevo finito il gioco e l'ho battuto a livello 51 mi ha richiesto decisamente più tempo è stato decisamente più impegnativo ovviamente si capiva che eravamo sottolivellati per quello scontro però è stato comunque molto divertente e poi l'ho battuto anche a livello 99 dove l'ho involontariamente fatto no damage in live quindi forse a livello 99 è un po' altino per lui però c'è anche da dire che venivo da circa un oretto un oretto e mezza di di studio sul boss quindi ci sta anche quello mentre Lingering Will Lingering Will è difficile da posizionare nel senso che è una boss fight con dei grossi problemi che ho capito dopo aver battuto perché ho guardato un po' di cose perché volevo capirla più approfonditamente non ho ancora un'idea chiara è uguale ad Axel bravo Matteo forse hai centrato il punto cioè è una boss fight che soffre degli stessi problemi di cui soffre Axel cioè è molto caotica e non è onesta con il giocatore nel senso che non è trasparente non è chiaro con il giocatore quello che sta succedendo e si va ad aumentare artificialmente la difficoltà del boss che è una cosa che se fatta bene può anche andare bene ma se fatta non bene non va bene questa è una grandissima citazione potreste fare un bel tipo non lo so con quelle belle scritte in corsivo Nox il 2023 quindi non lo so vi direi che la metterei in cista perché comunque non è assolutamente una boss fight mid non è assolutamente una boss fight terribile quello no ci mancherebbe però non è molto bella non è sgravata ci sta diciamo che ci sta perché comunque riesce a superare di gran lunga il livello di difficoltà delle altre sfide a offrire al giocatore un fight che sia veramente un super boss incredibile non che questi super boss che abbiamo appena arrancato non siano forti o che alcuni di loro non siano incredibili perché per esempio Roxas e Xemnas sono molto 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 belli però diciamo Lingering Will li stacca di una spanna di una spanna buona in termini di difficoltà e quindi ci sta va bene va considerata come il super boss del gioco del 2007 quindi quando si voleva strafare quella difficoltà però bisognava guardare in faccia i limiti tecnici del tempo e penso che tutto sommato da non esperto poi di programmazione però penso che sia stato fatto bene perché comunque risulta una boss fight godibile più godibile anche di certe boss fight che sono state fatte vent'anni dopo e che però non reggono il confronto in termini di qualità nonostante questo ha dei grandissimi difetti grandissimi difetti lo metterei in cista probabilmente lo metterei in cista davanti a tutti ci sta davanti a tutti primo posto dei cista allunghiamo di una puntina questo keyblade va bene arriverebbe più o meno qui se lo misurassimo arriverebbe più o meno qui ciao matteo e niente questa è è la mia tier list patate americane no questa è la mia tier list data battles di kingdom hearts 2 e con anche aggiunta anche se non si vedono con un sefirot invisibile qui o anche davanti a marluxia e un lingering will invisibile qui davanti al buon axel considerazioni finali sulle data battles di kingdom hearts 2 credo di eh averle approcciate scusate ma devo ricentrare il tutto ok credo di averle approcciate nel modo forse sbagliato in termini di aspettative nel senso che quando ho finalmente aperto il il giardino dell'assemblaggio mi aspettavo di trovarmi di fronte a qualcosa che in qualche modo fosse un un pre un antecedente di quello che è il giardino dell'assemblaggio che poi non si chiama così di kingdom hearts 3 quindi davanti delle boss fight estremamente tecniche dove studiare i moveset dove divertirmi con il combat system invece quello che già tecnicamente avrei potuto annusare da ben prima vedendo come funzionava il gioco non non è stato così non mi sono trovato di fronte a questo ma mi sono trovato di fronte a 13 più o meno gimmick fight con qualche eccezione ne abbiamo viste qua di di boss fight che lasciano quasi completamente da parte la gimmick qualche eccezione di boss fight che invece la gimmick riesce ad utilizzarla in un modo piacevole però che poi per la gran parte come vediamo qui risulta in un fight comunque divertente comunque carino comunque che vale la pena fare e comunque con un buon livello di sfida che però non riesce veramente a lasciare il segno per quanto mi riguarda e poi vabbè come come sempre c'è qualcosa che invece non raggiunge neanche la piena sufficienza o addirittura risulta una grave insufficienza però parliamo di una piccola parte la maggior parte come vedete sta qui sta in questa fascia in quella del ci sta in quella del va bene è stato divertente giocarlo ma non non mi sono particolarmente appassionato ad eccezione ovviamente di ciò che vediamo qui backflip vai uno due tre backflip fatto detto questo appunto credo di essere arrivato con l'approccio sbagliato o meglio con le aspettative sbagliate io da non grande fan delle gimmick non riesco a dire che queste boss fight sono il capolavoro di kingdom hearts e trovo che quelle del tre siano decisamente ma decisamente un miglioramento un grande passo avanti rispetto a queste quindi credo che un po' come per il gioco base un po' come per kingdom hearts 2 base chi ricorda queste boss fight come la sfida più estrema mi è capitato ogni tanto su tiktok quando postavo le no damage del tre che qualcuno dice se vabbè ma quelle del due diciamo che secondo me questo ricordo è un po' alterato queste boss fight sono più semplici più basilari meno stratificate e complessivamente molto meno difficili rispetto a quelle del tre sia chiaro che la difficoltà per me non è un criterio di bellezza potrebbero comunque essere più belle pur essendo meno difficili tant'è che qui appunto la boss fight che considero più difficile è andata nel tier terribile quindi la difficoltà non è assolutamente un criterio per valutare la bellezza di una boss fight però appunto un po' volevo dire che secondo me c'è un po' un effetto un po' di memoria alterate sulla difficoltà da parte di qualcuno perché magari sono stati affrontati quando erano molto piccoli molto giovani e poi c'è un grande effetto nostalgia quando si parla di quanto questo sia un punto alto per la saga è un punto alto sono delle bellissime boss fight e cioè nel contesto in cui sono inserite no? cioè è un contenuto molto bello immaginatevi comprare kingdom hearts 2 la versione final mix un paio d'anni dopo l'uscita di quella originale e trovarsi dentro tutto questo ben di dio sicuramente è una sensazione molto bella però non non siamo minimamente ai livelli di quelle del 3 e siamo di fronte a qualcosa che in realtà è diverso e che ora io sto comparando semplicemente perché è ovvio che la il confronto viene da sé è chiaro che parliamo di data battles quelle del 2 quelle del 3 uno le mette a confronto ma che in realtà forse non è neanche così sensato mettere a confronto sono due cose diverse queste sono 13 gimmick boss fight complesse che richiedono un certo tipo di di skills e di di abilità e che offrono un certo tipo di esperienza di esperienza mentre quelle sono delle boss fight estremamente tecniche che ruotano attorno a un combat system che dal mio punto di vista è stato troppo 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 ignorato ok e non preso in considerazione dalla fanbase di kingdom hearts e anche dai giocatori magari più casuali perché combat system veramente ma veramente ha veramente fatto come dio comanda quello di kingdom hearts 3 anche se ha dei problemi giganteschi e ne abbiamo parlato all'interno della level 1 dove escono tutti ok ma proprio fioriscono sbocciano in primavera e e niente questa è la mia idea su queste boss fight che comunque mi sono piaciute al di là poi di tutto il il divertimento che c'è stato a giocarle insieme a fare questa roba insieme che è stata una figata ovviamente però se anche le avessi giocate da solo probabilmente mi sarei divertito grazie brionark per il follow ciao fra e buon appetito buon appetito a te fra mi sono divertito è stato figo forse riuscirò a farmi le piacere ancora di più quando mi verrà la voglia e troverò il tempo di andarle a rompere quindi di di andare a vedere tutte come si possono smontare e devastare perché quando l'ho fatto con axel mi sono divertito e e gli ha fatto probabilmente guadagnare anche dei punti in questa tier quindi bene sono contento sono contento continuo a preferire quelle del 3 come qualcuno mi ha chiesto prima ve lo confermo ma parliamo comunque di di un contenuto di qualità un contenuto di grande qualità che mi è piaciuto che mi è piaciuto Sykes con Peter Pan c'è la summon di Peter Pan mai usata mai usata va bene io sono curioso di sapere anche cosa ne pensate voi un po' violetti mentre mentre facevamo la tier list ciao neoven buon divertimento buon divertimento anche a te con i tuoi ospiti e adesso tanto ci ci salutiamo tutti perché vado anch'io sono curioso comunque di sapere che cosa ne pensate anche voi chi ha parlato in chat l'ho letto e condivido alcuni dei vostri punti di vista chi invece magari guarderà il VOD su youtube può scriverli nei commenti io li leggo e rispondo volentieri ragazzi io per il momento vi saluto se dovete andare a mangiare fatelo buon appetito vi ricordo che potete entrare con punto esclamativo discord nel server discord dove potete rimanere in contatto con me e con la community e ricevere aggiornamenti sui miei contenuti e sulle live potete entrare anche cioè entrare no ma potete andare anche a vedere i miei profili social e i miei canali youtube con il comando in chat punto esclamativo youtube e punto esclamativo social io non ho altro da dirvi avevo una cosina in servo per voi ma si è fatto tardi ma vedo se riusciamo a farla prima di entrare in pausa con le live perché domani credo ci sarà l'ultima live poi ci sarà una breve pausa quindi per il momento ci salutiamo io vi auguro un fantastico proseguimento di giornata un buon appetito se dovete ancora mangiare e vi do un grande 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 bacione ciao ragazzi mua mua